Buonasera a tutti e tutte, siamo qua anche stasera nello spazio Book & Media di Sherwood per proporre la presentazione di un libro. Innanzitutto mi presento, sono Fabio Mengali della redazione di GlobalProject.info e stasera avremo il piacere di poter presentare il libro di Federico Chicchi, Emanuele Leonardi e Stefano Lucarelli dal titolo Logiche dello sfruttamento oltre la dissoluzione del rapporto salariale. Con noi ci sono due degli autori, Emanuele Leonardi e Federico Chicchi e mi aiuterà in questa presentazione anche Teresa Gregorin, sempre un membro della redazione di GlobalProject.info Io aprirei questa serata dando poche indicazioni rispetto ai motivi e all'interesse che ci ha suscitato la lettura di questo testo e di conseguenza il perché poi abbiamo voluto invitare qua gli autori di questo libro per poter approfondire alcune delle tematiche che vengono toccate. Appunto, Logiche dello sfruttamento. Innanzitutto, da un punto di vista teorico-politico e di cultura politica, è ovvio che come redazione di GlobalProject, come attivisti dei centri sociali, siamo sempre stati dalla parte degli oppressi e degli sfruttati e di conseguenza abbiamo sempre voluto contrastare tutti i vari meccanismi e dispositivi dello sfruttamento capitalistico, quindi dello sfruttamento economico. E l'abbiamo fatto nella lunga storia che in questa regione del nord-est caratterizza i movimenti sociali, dagli anni 70 fino ad oggi, attraversando diversi paradigmi di questo stesso sfruttamento. Quindi siamo partiti negli anni 70 con un'attenzione particolare rispetto a quella che era la fabbrica, a quello che era l'operaio massa e successivamente il passaggio dall'operaio massa all'operaio sociale, per poi andare lungo tutti gli anni 80, ma soprattutto la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, ad indicare, a descrivere un passaggio epocale, storico di paradigma di produzione capitalistico e di conseguenza di sfruttamento nei confronti della forza lavoro, che è quello che successivamente è stato definito da moltissimi teorici della cosiddetta tradizione post-operaista, ma facenti parte anche dello stesso operaismo degli anni 70, appunto il paradigma del capitalismo cognitivo e della produzione biopolitica. Questo tipo di passaggio è stato sancito da un punto di vista teorico, sicuramente perché a livello fenomenologico e a livello di pratica politica vi era stato un profondo cambiamento, una profonda trasformazione delle forme del lavoro. Non c'era più una produzione omogenea dal punto di vista spazio-temporale, quindi le otto ore di lavoro, otto ore di riposo e otto ore di sonno all'interno di una fabbrica, quindi tra le quattro mura di una fabbrica tendenzialmente dislocata rispetto a centri urbani, ma abbiamo invece assistito alla moltiplicazione di quelle forme di lavoro, cosiddette cognitive, perché afferenti maggiormente al settore dell'immateriale, quindi al terzo settore, al settore della formazione, al settore della grafica e della cultura, che si sono propagate dal punto di vista spaziale all'interno delle nostre città, delle nostre metropoli e che non rispettavano nemmeno quei limiti temporali della forma cosiddetta fordista del contratto di lavoro. Quindi appunto delle otto ore lavorative, ma sia a causa di contratti giuridici che a causa proprio della determinazione di questa nuova composizione della forza lavoro dovevano lavorare per più tempo e in forme diverse. Allora, rispetto a questo paradigma che ha animato i movimenti sociali, ripeto, dalla fine degli anni Ottanta, lungo tutti gli anni Novanta, fino agli anni di Genova e dei movimenti sociali, nonché quelli del ciclo di lotte contro l'austerity del 2008-2010. Questo ciclo di lotte ha appunto visto una sorta di passaggio rispetto all'attenzione che si è data alla produzione biopolitica del nuovo paradigma capitalistico, ma anche una sorta di esaurimento di questo paradigma teorico e di conseguenza, diciamo, pratico dal punto di vista dell'agire dei movimenti. Questo perché? Perché 2008-2010, prime riforme che hanno attaccato il welfare, primi, diciamo, tentativi da parte del capitale di privatizzarlo e di estrarre ulteriore valore da questo tipo di istituto della previdenza sociale, successivamente ci siamo trovati di fronte ad un'altra conseguenza della crisi che è stata l'imposizione di riforme del lavoro collocate in una tendenza europea che hanno visto invece l'abbassamento del costo del lavoro dal punto di vista del salario, quindi un'intensificazione, diciamo, della dimensione della sfera del profitto da parte del capitale e di conseguenza anche una sorta di difficoltà che abbiamo avuto nel leggere questa tendenza, giusto per scendere sul piano materiale, sul piano concreto. Quando è stato approvato il Jobs Act ci siamo trovati, come movimenti sociali, ad essere in difficoltà rispetto al livello della sfida che Renzi e l'elite europee ponevano a noi, diciamo, forza lavoro, a noi sfruttati, a noi oppressi. Perché ovviamente il Jobs Act imponeva di rivedere drasticamente tutti quei dispositivi, quei meccanismi di estrazione del lavoro e di estrazione del valore sulla composizione del lavoro vivo che non erano stati previsti finora. Provo a entrare brevemente nel merito. Noi abbiamo sempre pensato che la cooperazione fosse al centro della produzione di valore. Una produzione di valore che tuttavia sfuggiva alle maglie del profitto del capitale. Quello che abbiamo sempre detto negli ultimi decenni è stato, siccome appunto si tratta di una diffusione del lavoro cognitivo e quindi della possibilità di mettere in comune le competenze, le relazioni, gli affetti, i linguaggi, i codici, tutto questo di per sé è possibile in quanto c'è una cooperazione il cui esito, il cui prodotto successivamente viene appropriato dal capitale, potremmo dire. Quindi quando abbiamo detto che la società è stata sussunta realmente dal capitale abbiamo proprio detto questo, abbiamo detto che il capitale ha iniziato a rendere produttive quelle sfere che prima erano relegate all'interno della dimensione della riproduzione, quindi appunto il lavoro domestico, il lavoro cognitivo, il lavoro sanitario, le relazioni tra le persone e ha iniziato a sussumere anche la sfera della cosiddetta circolazione. Ecco nel momento in cui il capitale ha compiuto questo passaggio noi abbiamo sempre ritenuto che agisse secondo furto, secondo saccheggio fondamentalmente perché non era in grado di intervenire direttamente sulla produzione di questo valore. Questo perché? Perché fondamentalmente per poter dare centralità al lavoro cognitivo bisognava dargli anche più libertà e più autonomia a questo lavoro cognitivo e di conseguenza se il capitale fosse intervenuto alla stessa maniera con la quale interveniva nella fabbrica, nella catena di montaggio non ci sarebbe stata quella libertà e quell'autonomia necessarie appunto a creare valore. Allora, quello che ci piacerebbe discutere e su cui piacerebbe interrogarci questa sera con gli autori di Logiche dello Sfruttamento è siamo ancora sicuri che questo tipo di lettura valga in maniera esaustiva e completa nell'Italia e in Europa del 2016 perché ovviamente se noi pensiamo a come veniamo pagati in questo momento quindi alle varie forme di retribuzione, se noi pensiamo alle varie forme di organizzazione del lavoro che sono sì cooperative ma coesistono anche con dinamiche di competizione e se noi pensiamo al fatto che è sempre più difficile effettivamente esercitare fino in fondo quell'autonomia dal rapporto capitale-lavoro e di conseguenza quell'autonomia dalla disciplina e dai vari meccanismi diciamo più sottili, più morbidi che agiscono sulle persone che sono messe a lavoro da parte del capitale. Ecco, considerando tutto questo, com'è possibile continuare a pensare che ci sia in un certo senso una sorta di indipendenza da parte della forza lavoro e soprattutto com'è possibile puntare su questo tipo di statuto ontologico, su questo tipo di statuto sociale per poter affermare pratiche rivoluzionari, quindi per poter affermare anche emancipazione dallo sfruttamento e dai meccanismi di estrazione del valore. Quindi una prima domanda che ci viene da rivolgere ai due attori è proprio questa come è possibile, come diciamo il lavoro viene remunerato e viene pagato oggigiorno tenendo conto che esistono tutta una serie di fattispecie contrattuali e di forme lavorative atipiche come il lavoro gratuito, come i tirocini non retribuiti, come per esempio alcuni lavori che sono sottopagati e la restante parte è retribuita invece sotto forma simbolica e di diciamo riconoscibilità sociale per esempio e culturale. Quindi di fronte a tutte queste trasformazioni come effettivamente si stanno dando le dinamiche attuali di lavoro e come effettivamente si vengono a determinare nuovi meccanismi dello sfruttamento. Bene, intanto io ci tengo molto a ringraziare chi ci ha invitato qua e quindi Sherwood Festival perché è stato veramente un piacere incontrare questo luogo, passeggiare in questo luogo magnifico che è come dire da molti anni dà senso questo territorio, quindi ci tengo molto a ringraziarvi per l'occasione e anche naturalmente per poter parlare un po' di questo nostro libro che in un certo senso entra a gamba tesa proprio sulle questioni che si dicevano poco anzi, cioè il vero problema che anima la scrittura di questo piccolo volume, a noi piace dire piccolo ma denso perché speriamo che sia farcito di questioni teoriche e politiche importanti, è proprio il fatto che nonostante la crisi che attraversa il capitalismo ormai da quasi un decennio, non siamo stati in grado con le lotte, con l'impegno politico ad essere all'altezza della situazione. Non siamo cioè riusciti a probabilmente dare una lettura precisa e utile alla diffusione del conflitto all'altezza delle trasformazioni che il capitalismo contemporaneo porta in seno. Quindi questo è un libro che prima di tutto cerca di fare i conti con l'incapacità di muovere le nostre pedine contro lo sfruttamento. Uno sfruttamento che in questi ultimi anni dentro la crisi per diverse ragioni e in diverse modalità si è tutt'altro che addolcito, anzi si è in parte radicalizzato e rispetto alle condizioni del lavoro si è espresso con una violenza crescente. Allora il problema che ci siamo posti noi era quello di tentare di capire come effettivamente le modalità con cui il capitalismo ha esercitato fin dalla sua nascita probabilmente, lo sfruttamento fossero oggi nel capitalismo contemporaneo, quindi caratterizzato da quel salto di paradigma di cui dicevamo, fossero effettivamente quelle letture di quel tipo di sfruttamento adeguate a leggere anche le condizioni di vita e di lavoro nella società contemporanea. Questa è stata un po' la questione che ci ha interrogato profondamente. Perché la crisi non ci mette nella condizione di agire una controcondotta, perché la crisi non ci mette nella condizione di agire politicamente per cambiare radicalmente le cose, perché ci troviamo in un certo qual modo in un cul de sac che ci impedisce di spingere politicamente le nostre istanze, i nostri desideri, perché ci troviamo per certi versi ancora più in difficoltà dentro quello che sta accadendo. E noi ci siamo dati una prima risposta, e cioè lo sfruttamento che rimane certamente al centro delle modalità con cui funziona il capitalismo contemporaneo ha però in un certo qual modo complessificato il suo funzionamento. Abbiamo cercato di capire in che modo questa complessità in un certo qual modo si dichiarasse e si definisse all'interno di quei dispositivi di produzione di soggettività che caratterizzano il capitalismo contemporaneo e il modello neoliberale che in un certo qual modo lo innerva. E quindi la nostra proposta, perché l'ho chiamata a gamba tesa, è quella di in un certo qual modo da un lato assumere i limiti dell'analisi marxiana che rispetto alla questione dello sfruttamento si determinano nella lettura dei processi di estrazione del valore. Quindi siamo partiti dalla considerazione che per capire lo sfruttamento contemporaneo occorresse guardare anche a dei processi che non necessariamente si costituiscono e si determinano all'interno dello spazio che i flussi di lavoro socialmente descrivono. Quindi abbiamo riflettuto sul fatto che la cooperazione sociale autonoma così come si sarebbe dovuta determinare non si determinava perché in un certo qual modo eravamo, il nostro ottimismo rispetto a questa capacità derivava dal fatto che avevamo una incapacità di lettura di alcuni processi che nel capitalismo si danno, processi di riorganizzazione dello sfruttamento, che nel capitalismo contemporaneo si danno non solo ex post attraverso dispositivi di cattura e di riconduzione del valore dentro il corpo del capitale, ma che si costituiscono precisamente invece nella produzione di soggettività in itinere, cioè dentro i processi che rendono la soggettività adatta alla estrazione del valore. Questo scenario, cioè uno scenario in cui alcune logiche dello sfruttamento convivono tra loro, descrive cioè una serie di processi che si continuano a darsi all'interno del mondo del lavoro e che quindi hanno a che fare con l'umiliazione del lavoro dentro la crisi e dentro il nuovo paradigma di sviluppo dell'impresa del capitalismo industriale, ma anche parallelamente e anche in maniera convergente, più o meno convergente, in quelle sfere della riproduzione sociale o della circolazione che fino ad oggi avevamo considerato in un certo qual modo secondarie rispetto all'estrazione del valore stessa. Cioè in sostanza ci siamo resi conto del fatto che oggi estrarre valore significa non necessariamente salarizzare la soggettività e quindi definirla come forza lavoro, ma che è possibile sempre di più estrarre valore direttamente dalla soggettività. In che modo? Producendo, ed è il fenomeno che noi chiamiamo di impressione o di imprinting, producendo una soggettività che sia immediatamente scritta dentro il corpo del capitale. Cioè che in un certo qual modo perda il senso della differenza tra l'essere proprietario dei mezzi di produzione e l'essere invece proletari, cioè non detentori di mezzi di produzione. Questa è credo l'eufemizzazione che è in gioco, cioè il fatto che quella differenza che definisce il capitalismo stesso, cioè la differenza che si dà nella soggettività proprietaria, nei confronti di una soggettività non proprietaria, oggi in un certo qual modo perde sempre di più di rilevanza, è sempre meno sensibile, è sempre meno evidente perché ci sono delle pratiche di orientamento della soggettività e di produzione della soggettività che scrivono il lavoro e la vita direttamente dentro quella che è la struttura del capitale. E quindi nel momento in cui questa differenza, nel momento in cui questa contraddizione tende a essere sempre di più evanescente, sempre di più è difficile costruire pratiche di resistenza. Quindi il problema a nostro avviso si sposta nel riconoscere i confini e i rapporti che si danno tra i processi di estrazione del valore che continuano a darsi dentro il lavoro e attraverso la sua umiliazione e però anche dentro quei processi invece di estrazione del valore che avvengono al di fuori del rapporto salariale. Quindi noi sostanzialmente vogliamo tentare di dare conto dei processi di sfruttamento tentando di identificare forme di logica di estrazione del valore differenti che devono necessariamente però convivere tra loro. La prima domanda che volevo farvi, insomma anche in merito a quanto diceva prima Fobio, è parte da una cosa molto pratica, cioè dei percorsi di lotta che abbiamo avuto fatto al nostro interno negli anni passati in quanto attivisti e militanti che andavano proprio a mettere in luce dei nodi relative alle nuove forme del lavoro. In particolare mi riferisco a due esperienze che forse appunto ci danno anche un po' la misura pratica di quanto poi andremo a discutere questa sera. La prima era un percorso che ha avuto il suo fulcro, diciamo, ma non solo, non si è limitato a questo, a Venezia, città in cui il lavoro è culturale, cognitivo, è forse una delle principali esperienze di sfruttamento anche del lavoro ed era stato un percorso che è stato fatto da Salle Docs insieme ai collettivi universitari e che andava a segnalare proprio le varie luoghi di sfruttamento del lavoro culturale che erano per esempio le grandi fondazioni d'arte in cui venivano utilizzate queste figure del mediatore culturale. Di cosa si tratta? Si tratta di forza lavoro altamente formata che veniva direttamente estratta diciamo dalle fabbriche del sapere, quindi dalle università e con collegamenti diretti appunto con queste grandi fondazioni ed era fondamentalmente una forma lavoro non ritribuita o pochissimo, ritribuita pochissimo. E comunque, ripeto, un lavoro molto giovane e altamente formato. La seconda invece esperienza che volevo porre all'attenzione era quella della contestazione all'Expo che ha avuto appunto un grosso percorso di costruzione che dell'Expo quindi andava a criticare a mettere in luce molte criticità tra cui sicuramente il modello in sé, quindi il modello della grande opera grande evento in cui per il suo stesso funzionamento appunto si appoggiava su dinamiche di corruzione sistematica e che poi andava, si va a riprodurre anche, fornisce proprio un modello ormai anche di governance politica se vogliamo. E uno degli aspetti che si veniva fortemente contestato era appunto l'utilizzo di lavoro gratuito. E è stato proprio con l'Expo che queste forme del lavoro gratuito sono diventate, è stato il campo di prova generale per l'istituzionalizzazione di queste forme del lavoro gratuito. Allora, la mia domanda che vi faccio è, possiamo giusto considerare queste nuove forme del lavoro che però ormai diventano esperienza quotidiana, penso ormai di quasi la maggior parte di persone che si approcciano al mondo universitario, soprattutto nel campo appunto dell'arte, ma non solo, come visto ad Expo. E' giusto considerarle come il momento, forse l'apice di questa dissoluzione del rapporto salariale, come chiamate nel vostro libro, e come queste nuove forme del lavoro si inseriscono poi in quello che appunto sono i processi di imprinting che voi descrivete. Provo a rispondere io, intanto mi unisco ai ringraziamenti di fede a Sherwood e in particolare a Fabio e a Teresa per essere stati ottimi ospiti e davvero profondi lettori, quindi siamo molto molto contenti di essere qui a discutere con voi e a provare a rispondere alle questioni. Per prenderla in maniera molto diretta, sì, noi crediamo che in qualche modo per leggere le forme del lavoro gratuito, io conosco abbastanza il caso Expo perché ci ho lavorato, meno quello veneziano, ma prima ne stavamo parlando e mi pare che insomma ci possano essere ampie convergenze, almeno formali, sì, pensiamo che in qualche modo per leggere questi fenomeni occorra parteoricamente, però sempre mantenendo quel rapporto tra teorie e prassi militante che in qualche modo ci accomuna, noi veniamo dalle stesse radici che citava Fabio in introduzione. Perché il lavoro gratuito in qualche modo ci sembra legato alla dissoluzione del rapporto salariale? Perché il salario in quanto istituzione ha una serie di precondizioni, una delle quali è che il valore venga prodotto dentro la sfera della produzione, per l'appunto. Chi si incontra sul terreno della sfera della produzione in un mercato preliminare molto particolare che si chiama mercato del lavoro? Si incontrano i venditori della forza lavoro e gli acquirenti della forza lavoro. Quindi il salario come istituzione nomina precisamente questa subordinazione, cioè all'interno delle otto ore nelle quali io vendo a qualcuno la mia forza lavoro, quella forza lavoro viene messa a valore come questo qualcuno che l'ha acquistata ritiene. In cambio io ricevo inizialmente il sufficiente per riprodurmi in quanto forza lavoro, successivamente dentro il piano keynesiano ovviamente riceverò in più l'accesso al mondo dei consumi. vorrei portare l'attenzione sull'elemento di una subordinazione accettata, è quello che dentro il nostro ambito di ricerca è stato chiamato il patto socialdemocratico fordista. Si accetta una subordinazione in cambio di un pagamento. Questa è una differenza di natura. È possibile che un venditore di forza lavoro oggi divenga domani un acquirente di forza lavoro. Noi veniamo dall'Emilia Romagna, ne abbiamo visti tantissimi di conto terzisti che appunto per conto di grandi aziende aprono la fabbrichetta o la piccola impresa. Quello che non può succedere è che nel medesimo momento si sia acquirenti e venditori di forza lavoro. Nel momento in cui, dal punto di vista teorico, lo riprendo magari dopo legandomi a riflessioni che con il Pedro e il Morion abbiamo fatto quest'inverno. Ma se noi andiamo a vedere come il pensiero neoliberale in termini economici ha decostruito la forma salario, ci accorgiamo di come il lavoro gratuito sia la diretta emanazione di questa critica che ha finito per diventare egemonica a livello sociale. Dentro il paradigma marziano abbiamo quindi questa differenza di natura. Cosa dicono i pensatori neoliberali, noi qui facciamo riferimento all'analisi di Foucault su questi temi, quando si approcciano alla questione salario? Rifiutano totalmente l'analisi astratta sia marxiana che dell'economia politica classica e quindi pretendono, sostengono di mettersi direttamente dal punto di vista del singolo lavoratore. E quindi qui voi vedete il primo passo di disarticolazione di quella differenza di natura marxiana che dicevamo, perché in Marx chi si confronta sul mercato del lavoro non è un lavoratore, è un capitalista. Sono due classi, capitale collettivo e i lavoratori. E in quanto classi sono separate? Nel pensiero dei neoliberali invece il punto di vista è quello del singolo lavoratore. E quindi per esempio Becker, Gary Becker dell'Università di Chicago, si chiede ma dal punto di vista del singolo lavoratore che cos'è un salario? In fin dei conti un salario è un reddito, cioè una quantità di denaro attraverso il quale questo qualcuno si compra il sufficiente per vivere e per accedere ai consumi. Dal punto di vista economico il salario è il nome che si dà alla rendita di capitale, scusate, il reddito. E quindi sostanzialmente attraverso questo movimento che teoricamente sembra molto lineare ma che in realtà implica un salto teorico davvero vorticoso, si arriva al punto in cui il salario è il reddito di un capitale. Ma se non è il capitale investito da parte dell'acquirente di forza lavoro, che capitale può essere? A loro avviso si tratta di capitale umano. E quindi qui torniamo, chiudiamo il cerchio con quanto diceva Fabio rispetto al fatto che nel capitalismo contemporaneo il terreno della riproduzione, formazione, lavoro di cura, affetti, viene internalizzato dentro la sfera della produzione. Quindi il capitale umano è in realtà quella figura che segna la fine della separazione tra gli acquirenti e i venditori della forza lavoro, ma ovviamente a nostro avviso, questa è la scommessa del libro, non la fine dello sfruttamento. Quindi finisce il patto su cui lo sfruttamento tradizionale si fondava. E anche in certe analisi vicine alle nostre sensibilità, negli anni 90 si era pensato che la fine di questa separazione avrebbe comportato la liberazione di alcune forze di lavoro. E invece nel libro noi cerchiamo di spiegare come a nostro avviso continui ad avvenire sfruttamento benché in modo diverso. E qui arrivo al caso Expo, poi magari vi lascio la parola e facciamo un secondo giro. Perché l'accordo di luglio sindacale del 2013, che ha istituzionalizzato il lavoro gratuito, che meglio sarebbe chiamare lavoro volontario, perché è uno simoro. È uno simoro. Secondo le nostre leggi, il volontariato non può essere rivolto all'attività a fine di lucro. Ora, su Expo S.p.a. possiamo avere le più diverse opinioni, ma che non sia stata un'azienda a fine di lucro, questo proprio non si può dire. Quindi evidentemente vice stato con l'avallo sindacale, prima si parlava di come pensare il rapporto tra il sindacato confederale in Italia e il sindacato confederale in Francia per quanto riguarda le ultime mobilitazioni in quel paese. E io penso che su questo ci sia da ragionare, perché quello che è successo nel 2013 a Milano ha dell'incredibile. Quindi rendendo possibile questo tipo di forma lavorativa, che poi ha preso nel caso di Expo le forme più svariate. C'erano i singoli volontari che stavano due settimane, c'erano addirittura persone, un migliaio, che hanno svolto il servizio civile presso Expo. E qui vedete, adesso noi facciamo qualche riferimento all'analisi del neoliberalismo secondo Foucault. Una delle cose principali che ci permette di analizzare la prospettiva Foucaultiana sul neoliberalismo è che le favole che ci hanno raccontato sui neoliberali che odiano lo Stato, in realtà siano precisamente favole. Cioè non si tratta più di pensare più mercato e meno Stato. Si tratta di implementare uno Stato che è uno Stato consulenza, uno Stato consulente che produce le condizioni ottimali affinché il mercato funzioni, nonostante le sue storture. Quindi, per chiudere qui il primo giro, se noi utilizziamo il capitale umano come bussola teorica per leggere il lavoro gratuito ad Expo, riusciamo a rispondere alla domanda che, insomma, in qualche modo penso ci siamo fatti tutti. Perché oltre centomila persone hanno fatto domanda per lavorare gratuitamente ad Expo? Io penso che alla fine ci sia in qualche modo l'autopercezione di fare un investimento sul proprio capitale umano. Cioè di acquisire competenze che poi, molto più prosaicamente, è una riga che si considera, si ritiene particolarmente importante nel proprio curriculum e che quindi faciliterà in futuro, si presume, la possibilità di svolgere un'attività lavorativa e remunerativa e piacevole. In qualche modo noi facciamo riferimento al lavoro di Bacetta, ma anche di Ciccarella e di altri che hanno parlato di economia politica della promessa e quindi della trasformazione perché non c'è più salario, l'imprinting è precisamente quello, è una promessa di ritorno futuro, forse, di qualcosa come un'attività lavorativa decente. Due cose anch'io sulla domanda di Teresa. Vedete, la questione è che quando noi parliamo di dissoluzione o potremmo anche dire esplosione del rapporto salariale, diciamo esattamente quello che Emanuele ha molto ben precisato, e cioè che un modello sociale che si fondava sul compromesso tra capitale e lavoro, sulla mediazione dello Stato di questo rapporto, che agiva in termini di redistribuzione della ricchezza proprietaria e prodotta attraverso le forme welfareistiche o i servizi sociali, oggi è completamente saltata. E quindi, come dire, se non assumiamo il fatto che un'intera modalità di funzionamento del sistema capitalistico, che era quello novecentesco fordista industriale, oggi, come dire, non c'è più, o perlomeno si è profondamente trasformato, non riusciamo veramente ad intendere quali sono i punti su cui l'estrazione del valore e la sua riappropriazione in termini proprietari avviene. Perché quando noi diciamo, ma non siamo solo noi a dirlo, appunto, che il rapporto sociale di produzione è basato sulla mediazione dell'istituzione salario salta, diciamo, da un punto di vista empirico, che oggi si lavora in termini differenti da quelli che nella fabbrica tradizionale o nella fabbrica sociale prima degli anni settanta avveniva. Cioè, il modo in cui noi entriamo nell'istituto lavoro è un modo totalmente trasfigurato. Cioè, oggi il lavoro non è più quell'elemento, ad esempio, di integrazione sociale che in un certo qual modo definisce anche la subordinazione del soggetto al capitale. Perché di per sé è poroso, è intermittente, è ibridato, è nomade, è privo di continuità. E si, appunto, riorienta in tutte quelle forme di lavoro post-salariale di cui Emanuele ha cominciato a dire delle cose. Per esempio, il lavoro artistico e il lavoro culturale è, da un punto di vista della produzione di ricchezza, in Italia e in altri paesi occidentali, soprattutto occidentali, una fonte di produzione di reddito e di ricchezza capitalistica straordinariamente importante. Ma il modo in cui un lavoratore culturale agisce dentro quel mercato non ha nulla a che fare con le modalità che invece si determinavano dentro la fabbrica. Non si tratta più di, come dire, disporre docilmente una soggettività lungo un macchinario che lavora poi, indica le modalità in cui il lavoro deve essere eseguito. Pensate all'alienazione marxiana, no? Il modo in cui il lavoratore culturale deve intervenire sul processo è continuamente sollecitato dalla innovazione, dalla creatività, dalla differenza, dallo scarto. Addirittura è stato inventato recentemente in America, pensate come il tema dell'uniformità e dell'omogeneità del lavoro oggi si è completamente ribaltato, un indice per misurare la competitività di un'impresa che si chiama Gay, Gay, Gay Index. Allora, che cosa dice questo indice? Dice che se nelle imprese ci sono molti omosessuali, sto banalizzando un po', ma più o meno è questo, allora quella impresa, essendo detentrice di elementi di eterogeneità, di eteros in gioco, produce valore. E quindi, in un certo ugual modo, siamo in una dimensione antropologica del lavoro completamente nuova. Se prima bisognava semplicemente, ortopedicamente stare al posto della macchina, quindi svolgere le attività che la macchina, in un certo ugual modo, indicava e determinava, oggi ci viene chiesto di essere continuamente diversi, di essere continuamente formati, di essere continuamente appassionati, di essere desiderosi di aggiungere qualcosa a quello che stiamo facendo. Capite come questo non può che creare una trasformazione profonda a quel dispositivo che crea il rapporto di estrazione di valore tra il capitale e chi esercita un'attività. Questo è un primo elemento che va sottolineato. Perché, ovviamente, affinché un lavoratore estroverso, diciamo così, un lavoratore capace di innovare, di portare passione e differenza nei processi, non può essere più controllato, come prima, da dispositivi che tendevano a serializzare e a standardizzare. Ma bisogna adeguare dei processi, di creare dei dispositivi di allineamento che non sono più, come dire, ortopedici, ma sollecitanti. E questo è un altro grande insegnamento che, ad esempio, si può trovare nella letteratura francese. Quindi noi, in questo libro, cerchiamo di fare un'operazione anche teorica al limite della sostenibilità, che è quella di far lavorare il pensiero marxista, che è profondamente dialettico e gioca sugli opposti, con un pensiero, invece, di analisi del capitalismo legato alla French Theory, che quindi attraversa la produzione teorica di Deleuze, di Gattari, di Foucault e di altri autori, che in questo libro hanno, naturalmente, una importanza straordinaria per noi e per la lettura che diamo dei processi di sfruttamento. Però, per rimanere sull'esemplificazione, cioè di come effettivamente la nuova logica dello sfruttamento lavora producendo soggettività che si allinea, ma non ortopedicamente, ma sull'allineamento del proprio desiderio a quello dell'impresa o del capitale, vorrei farvi alcuni esempi molto concreti. Allora, chiaramente tirocini, lavoro voucher, cioè pagato con i voucher, sono tutti lavori che stanno ai confini del lavoro salariato e che quindi già si pongono, secondo noi, al di fuori di quell'istituzione e che quindi ci dicono delle cose rispetto ai cambiamenti del lavoro e dello sfruttamento. Ma ci sono altre situazioni, altre situazioni in cui l'estrazione del valore è addirittura immediatamente al di là dell'attività stessa di produzione, così come veniva intesa nel Novecento. Ad esempio, quando noi usiamo i social network, rilasciamo valore, senza rendercene conto. Cioè, quando noi usiamo Facebook, permettiamo a quella impresa di aumentare il suo valore, il suo fatturato. Ma noi lo facciamo senza la consapevolezza di interagire in un processo di distrazione del valore. Lo facciamo perché usufruiamo di quel servizio in maniera, tra virgolette, ingenua. Ma ci potrebbero essere tantissime. Per esempio, quando si parla di lavoro clinico oppure si parla di uteri in affitto, una donna indiana che viene presa e convinta, convinta a portare in seno il figlio di un'israeliana, come capita purtroppo tutti i giorni nelle fabbriche farmacologiche e cliniche dell'India, dove cioè un corpo si fa direttamente portatore di una vita a pagamento, ma quando il corpo accetta di essere portatore di una vita per un'altra persona. Quello è un rapporto di sfruttamento di tipo salariale. Quello che lei riceve in cambio è un salario, così come noi lo abbiamo inteso nel Novecento. Il fatto che lei sta nove mesi bombardata farmacologicamente, controllata e convinta che sta facendo un'operazione di grande importanza per non lasciare vuoto il suo utero, che vuoto è il simbolo del demonio. E quindi vengono convinte attraverso retoriche, attraverso anche terapie farmacologiche, ad essere semplicemente il contenitore di un figlio che poi sarà dato ad una terza persona, a un'altra famiglia del mondo occidentale. Quello è un rapporto di lavoro così come l'aveviamo inteso tradizionalmente. Io credo che si aprano elementi per leggere lo sfruttamento di natura completamente nuova, è che noi abbiamo il compito di non sottovalutare questi processi. Attenzione però, sempre tenendo conto che questi processi funzionano sempre in rapporto ai processi tradizionali di sfruttamento. C'è un rapporto da costruire. Non si tratta di dire che tutto lo sfruttamento si sposta sull'impressione, sull'imprinting e quindi il lavoro non c'entra più niente con lo sfruttamento capitalistico. Si tratta di capire come lo sfruttamento dentro il lavoro e dentro la sua umiliazione e dentro anche la distruzione dei diritti sociali che le lotte operarie avevano conquistato nel Novecento. Questo elemento che ha un'ingerenza nelle nostre vite diretta, forte e fondamentale, però lavora in complementarietà con altre forme di sfruttamento che disegnano nuove contraddizioni e nuove fratture dentro il diagramma capitalistico. Sì, appunto, proprio su quest'ultimo passaggio che ci stava dicendo Federico e che comunque è stato toccato anche da Emanuele e dagli interventi precedenti, mi sembrerebbe importante riuscire a dare una descrizione o comunque sia una prima esplicazione di questi due concetti che vengono affrontati all'interno del vostro percorso intellettuale. Cioè il concetto di sussunzione, il concetto di imprinting o di impressione, come si diceva prima. Quello che appunto magari anche molto brevemente e in maniera abbozzata ho cercato di dire nel presentare questo libro è proprio questo tipo di mancanza e di passaggio che in un certo senso viene fatto all'interno della vostra elaborazione. Cioè che se prima o comunque all'interno diciamo del paradigma teorico post-operaista io potevo concepire la vita intera come orario lavorativo, allo stesso tempo avevo una remunerazione salariale che derivava però da soltanto dalle ore entro le quali ero messo al lavoro. Quindi di conseguenza se io sono un dottorando in università per esempio sono pagato per diciamo quel tipo di produzione intellettuale che dovrei fare per quelle ore di seminari obbligatori che dovrei seguire e nient'altro. Quando sappiamo benissimo che il prodotto finale intellettuale di una ricerca per esempio di dottorato non è quantificabile perché dipende anche da approfondimenti come possono essere un dibattito a Sherwood, dipendono dal tipo di incontri e di relazioni, di conferenze che il dottorando può seguire al di fuori l'università e al di fuori dell'obbligatorietà delle sue attività e tuttavia viene pagato solo per una parte di tutto questo. Quindi questo era proprio il paradigma che prima abbiamo cercato di descrivere come sussuntorio. Quindi appunto c'è un certo tipo di produzione di valore che viene appropriata completamente dal capitale ma il lavoratore viene remunerato soltanto per una piccola parte di essa. e ovviamente tutto questo si dà anche attraverso la privatizzazione del welfare e diciamo dei servizi che estraggono valore proprio dalla cooperazione tra individui, tra portatori di forza lavoro potremmo dire e che tuttavia non ridistribuiscono poi tutto quel tipo di ricchezza che viene prodotta ma anzi diciamo viene utilizzata per poi essere quotata nello specifico nei mercati finanziari. Allora il concetto di imprinting invece ci impone di fare un salto ulteriore in avanti perché quello che viene detto con l'imprinting è che non soltanto noi non siamo remunerati per quella parte di lavoro che facciamo con la nostra vita, con la nostra biologia, con le nostre relazioni. Ma noi produciamo valore al di là del fatto che poi avremo un rapporto subordinato e salariato. Quindi in un certo senso io produco valore dal punto di vista formale appunto come imprinting formale anche quando ci sono le piccole famiglie, quando io sono inserito in un nucleo familiare per esempio Vicentino che fa delle quote in borsa attraverso la Banca Popolare di Vicenza e insomma sappiamo benissimo almeno noi pubblico che abita in Veneto che tipo di fine ha fatto quel tipo di quotazione là e questo non è lavoro ovviamente, non viene ricondotto a un rapporto salariale e allo stesso tempo si potrebbe andare avanti con tutti gli esempi che ci stava facendo prima Federico. Ecco, secondo me sarebbe molto importante definire due concetti e capire poi che tipo di passaggio c'è senza fare alcun tipo di continuità storica. Nel senso trovando quelle linee di connessione tra la sussunzione e l'imprinting che permettono ai due paradigmi di esistere contemporaneamente. Voi avete usato una figura poi diciamo geometrica all'interno del vostro libro, il cui nome non so assolutamente riprodurlo. L'anello di Moebius. Esatto, l'anello di Moebius che mi sembrava piuttosto esemplificativa di questo tipo di rapporto. Ma guarda, è giustissimo Fabio, quello che hai detto già, come dire, mette sul piatto tutta una serie di considerazioni. Allora, la sussunzione è, come è noto, il modo in cui Marx descrive l'azione dello sfruttamento che nella sfera della produzione permette al capitale di estrarre valore dal lavoro, dal lavoro vivo e che invece nel piano della circolazione permette alla forza lavoro di essere acquistata e poi appunto sfruttata dentro la sfera della produzione. È un meccanismo che Marx ha presentato nel capitale, in particolar modo nel sesto capitolo inedito, su cui i postoperaisti hanno lavorato tantissimo. Pensiamo ad esempio, mi viene in mente Carlo Vercellone, che forse è uno degli economisti su cui si è soffermato di più. Anche lui, in un certo modo, indicando la difficoltà ad utilizzare queste categorie concettuali per leggere le trasformazioni del capitalismo in senso cognitivo e biopolitico. Qual è il problema? Perché il tema della sussunzione formale e reale, in un certo senso, oggi girano a vuoto rispetto ai processi di sfruttamento? Perché è saltata la misura, è saltata la misura che permetteva di contrattualizzare lo scambio tra capitale e lavoro. Cioè che cos'è che misurava la quantità di salario che doveva essere erogata al lavoratore in cambio della sua disponibilità nei processi di produzione? La quantità del tempo di lavoro che lui dedicava al processo di produzione dentro la fabbrica. Quindi il lavoro era in un certo modo, si dava nella sua forma estensiva, era in sua misura tante ore di lavoro, tanto valore doveva essere incorporato nel salario per permettere al lavoratore di riprodurre la sua vita sociale. Allora, perché salta questa misura? Perché potremmo anche descrivere la questione del capitalismo attuale come un tentativo disperato, a mio avviso, di continuare ad applicare questa misura al mondo del lavoro? Disperato ma molto scaltro, molto furbo anche. Perché sostanzialmente quel tipo di produzione, cioè basata sulla quantità della produzione, oggi produce delle crisi di sovrapproduzione che renderebbero l'attività di impresa non profittevole. Allora, dentro il contesto del capitalismo globale, dentro il capitalismo della crisi, occorre un'impresa che sia messa nella condizione di prendere, usare e gettare il lavoro. Questo è molto banale, ce ne siamo resi conti tutto, ma questo avviene già dagli anni Ottanta. La possibilità non di iscrivere un rapporto sociale collettivo, su base collettiva, scritto nel diritto pubblico, che dice tu lavoro, hai diritto, in quanto produttore della ricchezza, quanto il capitalista, di avere delle tutele, delle forme di sicurezza sociale, una previdenza sociale attiva, in cambio della tua etero direzione nei processi di produzione, ma anche nelle gerarchie sociali, se salta questo, allora chiaramente il lavoro deve essere, cioè se non è più la scala quantitativa della produzione a generare il valore, deve essere il lavoro usato solo nel momento in cui c'è domanda di beni e domanda qualitativa di beni. Qui c'è tutta una serie di processi che fanno sì che il lavoro diventi prezioso solo nel momento in cui è intensivo, cioè nel momento in cui è capace di inserire attraverso il capitale umano, le risorse umane che si possedono, processi di continua innovazione e qualità nel prodotto. Allora, il problema è che questo genera un passaggio radicale nel modo in cui il rapporto capitale-lavoro oggi si scrive. Perché, come dicevo anche prima, rendere un lavoratore disponibile a esercitare il proprio desiderio liberamente, ma al contempo esercitarlo in una condizione di non etero direzione, significa far saltare proprio il dispositivo del contratto. Cioè, la forza lavoro entrava dentro lo sfruttamento capitalistico attraverso un contratto. ciò che permette di fare l'imprinting, così comincio a spostarmi su quel lato lì, è che si può invece estrarre valore dalla soggettività senza passare dalla mediazione contrattuale. Cioè, non c'è più bisogno di, in un certo qual modo, entrare in nessun dispositivo collettivo di mediazione del rapporto che genera l'estrazione e l'appropriazione del lavoro. E questo è, naturalmente, ha come esito, primo ed evidente, la diffusione dei fenomeni di precarizzazione. Evidentemente, il lavoro privato di un contratto, cioè privato, di una serie di sicurezze sociali adesso collegate, è un lavoro che è esposto all'incertezza. È esposto ai flussi delle merci, è esposto alle dinamiche sistemiche, su cui, intanto, su scala individuale, non più collettiva, perché non c'è più la capacità di rappresentare la frantumazione del lavoro dentro un'istanza collettiva, quindi tutti noi siamo esposti individualmente, come diceva bene anche Emanuele, di fronte alla violenza del capitale, di fronte al tentativo del capitale di tradurre la nostra vita in valore, che è sempre un tentativo violento, cioè basato sullo sfruttamento. Allora, affinché, come dire, noi restiamo dentro questo processo e non ci dedichiamo ad attività di produzione del valore che sono effettivamente autonome dai dettami del capitale, occorre sollecitare quella soggettività. E, naturalmente, la si sollecita anche attraverso strumenti di tipo immaginario. Cioè, è inutile che facciamo finta di non vedere che noi siamo continuamente bombardati da immagini che istituiscono la merce come valore assoluto della vita. Tutta la vita è nel capitale commensurabile, cioè non c'è nulla nella vita. Ed è l'altro ieri lo scandalo in Egitto di questi poveracci che venivano presi, ammazzati, i cui organi venivano venduti. Cioè, niente sfugge alla violenza del mercato, nel momento in cui l'unico elemento che entra in gioco è, da un punto di vista della produzione di soggettività, la sua mercificazione. Non c'è limite, non c'è ostacolo alla produzione del valore, non c'è contratto, non c'è nessuna istanza collettiva che può mediare la violenza del capitale, fattosi fantasma della merce sulla vita. Se tutto è merce, se noi godiamo della vita solo attraverso la mediazione dell'oggetto e quindi del suo consumo, nulla è più, come dire, nulla più ostacolare. Allora, l'imprinting è anche il tentativo di scrivere la soggettività dentro questo orizzonte, cioè l'orizzonte della mercificazione assoluta. Però questa non è una cosa che il capitale fa una volta, cioè chiaramente c'è una resistenza a questo processo. Chiaramente c'è una resistenza da costruire, da costruire politicamente. Le controcondotte devono però, come dire, comprendere che l'autosfruttamento è qualcosa che agisce nelle vite delle persone, soprattutto nelle vite di quei giovani che, come dire, non hanno una cultura politica tale da poter prendere delle distanze rispetto. Vi faccio un esempio brevissimo, che poi passo la parola all'era, che ho parlato anche troppo. C'è, per parlarvi appunto del fantasma della merce come immaginario del capitalismo contemporaneo, come tentativo di scrivere, cioè di imprimere la vita dentro questo fantasma, tendo per fantasma orizzonte, il desiderio piegato in quell'ottica, diciamo, il piegato in quella prospettiva, il desiderio che non può che prodursi in quella direzione, perché non c'è uno spazio altro su cui provare a desiderare qualcosa di diverso. C'è una pubblicità di qualche anno fa, non so se ve la ricordate, della Mercedes, in cui c'è questa scenetta. Ci sono due persone, un uomo e una donna, che si svegliano in un letto. evidentemente hanno fatto sesso, sono una coppia. E lei dice, caro, perché non mi porti al mare? Non so se qualcuno di voi se la ricorda. Io, su YouTube si può recuperare. E lui dice, ma cara, sì, perché no? E mentre lei parla, lui immagina di essere al volante della sua macchina, che sfreccia sulle coste di una qualsiasi costiera. Poi dopo lei dice, no, però portami in montagna. Lui certo, perché nel frattempo immagina, no? Lui, macchina che va sulle strade di montagna. Però in un'esplosione di romanticismo assoluto, la ragazza dice al suo partner, no, anzi, portami a Venezia. Dato che siamo a due passi. Allora lui cosa fa? Lui immagina la sua macchina dentro il parcheggio. Perché a Venezia non si va in macchina. E quindi dice, mai a Venezia, mai. Per dire che il rapporto di coppia, il rapporto sessuale, è sempre più mediato dall'oggetto. Cioè questo, in un certo qual modo, ci vuole far credere chi ci bombarda di pubblicità. Che per godere della donna dobbiamo poter godere prima della macchina. Perché senza quella macchina non si può godere della donna. Sì, proprio su questa appunto questione dell'imprinting, la cosa che ci piacerebbe chiedere ad Emanuele, in virtù del percorso che abbiamo fatto assieme, appunto, tra Padova e Venezia, e che era inerente alle problematiche relative alla crisi ambientale e climatica, vorremmo capire come appunto questo concetto di imprinting possa essere utilizzato anche per analizzare i meccanismi di sfruttamento della natura. Facendo un passaggio ulteriore rispetto a quello che è stato il rapporto classico di dominio del capitale sulla natura, quindi di utilizzare la natura semplicemente come risorsa, e capendo se invece la natura stessa di per sé può costituire una sorta di rendita del capitale, una sorta di forza-valore, appunto, in sé, senza quindi bisogno di passare in primis per un processo di lavorazione produttivo. Ok, intanto grazie, mi permette di fare un passo indietro per provare a vedere se riesco a mettere in chiaro le poste in gioco, diciamo così, iniziali del libro, e poi arrivo ovviamente alla domanda. Perché noi cominciamo il libro, nel primo capitolo che in qualche modo è il nucleo teorico del volume, riportando una scena di un film del 79 che in italiano è stato chiamato I guerrieri della notte. Dico brevissimamente, chiaramente non svelo il finale, per dirvi perché è importante questa piccola scenetta nel nostro libro. I guerrieri della notte è un film sulle gang New York in cui a un certo punto un leader carismatico cerca di ricomporre la scena molto frammentata delle gang New Yorkese. Il nome di questo leader è Cyrus, quindi convoca una grande assemblea a cui i delegati di ogni gang parteciperanno. E nel discorso che intende unificare tutte le gang New York, dice una cosa molto precisa. rendiamoci conto che la ricchezza c'è, è là fuori, in gran parte la facciamo noi, e tutto quello che dobbiamo fare è prendercela, rubarla. Take to steal. Il film prosegue con l'uccisione di questo leader poco dopo che ha pronunciato queste parole. I guerrieri della notte, che sono una gang, vengono accusati dell'uccisione e quindi devono scappare per raggiungere il loro quartiere, sentono molte cose che non vi racconto, c'è una scena particolare di questo momento di fuga, tutto il film è una fuga, in una scena particolare i due membri dei guerrieri della notte che hanno avuto meno esposizione nel film fino a quel punto e che poi spariranno sostanzialmente dal film, hanno questo dialogo, sono in metropolitana. E uno dei due dice all'altro, però effettivamente Cyrus aveva proprio ragione, tutta la ricchezza è là fuori, noi dobbiamo solo trovare un modo per prendercela. E l'altro gli risponde, sì è vero, aveva ragione, però dobbiamo anche capire, trovare un modo per capire cosa vale la pena di rubare. In questa frase, secondo me, che è il film del 79, c'è tanto materiale per riflettere sulla parabola del movimento operaio. Perché, per una gran parte, ovviamente banalizzo, fino a un certo punto, però penso che si possa dire, quello che è stato chiamato il comunismo delle forze produttive, ha avuto come obiettivo quello di modificare la gestione del valore prodotto. Quindi, nel capitalismo, nel modo di produzione, si produce un tot, il problema non è che si sia prodotto quel tot come si sia prodotto, il problema è chi lo gestisce. E il nostro obiettivo politico è far sì che alla classe dei capitalisti venga sostituita la classe operaia nella gestione di quel surplus, cioè di quel valore in più prodotto nel processo produttivo. Quello che dice Palla di Neve al suo amico, in sostanza, è che non è più sufficiente avere quel tipo di approccio al surplus creato attraverso il processo produttivo. Occorre mettere a tema la qualità di cosa si produce, cioè avere in mente una serie di criteri che ci permettano di dire di quanto è stato prodotto questo andava bene a produrre, questo magari no. E ovviamente il film non procede descrivendo, non è un discorso teorico su questa questione, ma questa è la questione che noi abbiamo cercato di approcciare con il testo, perché in realtà finché rimaniamo dentro la centralità del rapporto salariale abbiamo precisamente questo lato quantitativo che prevale. E tant'è che tutto il paradigma della crescita è tutto interno al rapporto salariale, cioè si dice se noi produciamo di più ce ne sarà di più per te e per me. Ora abbiamo visto prima che una delle precondizioni per che il rapporto salariale si dia è la separazione tra i due soggetti che stanno, tra le due figure soggettive che si incontrano sul mercato del lavoro, ma c'è un'altra condizione e cioè che alcune altre figure soggettive vengano relegate sullo sfondo. Queste figure sono quelle della riproduzione, sarebbero una moltitudine. Noi nel libro spieghiamo che arriviamo a queste questioni soprattutto attraverso la critica femminista dell'economia politica e quindi abbiamo una questione che riguarda il lavoro domestico che nel capitalismo contemporaneo in nessun modo può essere considerato al di fuori dei meccanismi produttivi e dall'altro ovviamente le questioni che riguardano l'ecologia politica. Cioè la natura che dentro il paradigma salariale è un momento della riproduzione e che a nostro avviso oggi entra prepotentemente non solo come condizione ma come fattore della produzione. Lo dico in maniera brevissima per poi arrivare all'imprinting. Fino agli anni 70 dal punto di vista degli economisti politici la natura è quel bordo esterno all'attività produttiva che deve essere concepito come simultaneamente infinito e gratuito sia a monte del processo di produzione come materie prime che a valle come smaltimento di rifiuti. L'idea è il valore si produce nel rapporto tra forza lavoro e acquirenti di forza lavoro si produce però all'interno di un campo delimitato dall'infinità tra le altre cose della natura. Negli anni 70 questo modello crolla anche sulla base di eventi evidentissimi da un lato le lotte ecologiste ma dall'altro alcuni disastri e alcune problematiche che si ponevano nelle aziende che mostrano chiaramente come in realtà questa illimitatezza e gratuità fosse una premessa erronea. E noi abbiamo una prima fase in cui effettivamente il capitale reagisce a questo tipo di problema facendo senecaico sono i primi anni tra gli anni 70 e gli anni 80 in cui abbiamo una legislazione ambientale che prevede che le aziende paghino per l'inquinamento oppure per appropriarsi di risorse scarse. Dagli anni 80 in poi invece vediamo un progressivo processo di internalizzazione del limite ecologico dentro il processo produttivo come terreno di accumulazione primo passo lo sviluppo sostenibile non è così vero che la crescita infinita sia incompatibile con un mondo di risorse finite se stiamo attenti le due cose possono andare insieme dieci anni dopo quindici anni dopo con il paradigma delle green economy abbiamo il compiersi di questo passaggio in realtà non solo possono andare insieme ma investendo in natura noi possiamo costruire ulteriore valore sempre tornando ad Expo se uno va ad analizzare la narrazione che stava attorno ad Expo sull'energia e il cibo non è altro che riprendere la narrazione di Hannover del 2000 del 2010 ma poi di quelle precedenti le ultime Expo sono tutte legate a come si possa estrarre valore o dalle città Shanghai oppure dalla natura 2005 e l'ultima di Hannover come è possibile e qui vengo alla domanda molto rapidamente poi nel dibattito magari approfondiamo come è possibile che si estragga valore dalla natura se fino a poco tempo fa ci siamo detti che l'unica forza che produce valore è il lavoro ora secondo me qui l'imprinting funziona perché sebbene in modo diverso il lavoro o l'attività interviene nel rendere la natura qualcosa di valorizzabile cioè la natura che viene valorizzata ad esempio nei mercati di emissioni di carbonio so che poco tempo fa avete avuto un importante dibattito sul cambiamento climatico a Parigi la COP21 ha avuto uno degli esiti pessimi della COP21 è stato che ha sostanzialmente rinnovato la fiducia a mercati che negli ultimi 15 anni hanno dimostrato di non sapere minimamente funzionare ma qual è il modo attraverso il quale la natura diventa elemento del processo di valorizzazione è la sua trasformazione in informazione non è il lago l'atmosfera il monte è una quantità di possibile assorbimento di CO2 che viene scambiata sui mercati mercati che tra l'altro non sono mercati di scambio primario sono mercati finanziari cioè per funzionare hanno bisogno che questa informazione venga tradotta dentro i meccanismi finanziari e io penso che questo tipo di sfruttamento dentro il paradigma salariale non sarebbe stato possibile perché abbiamo visto come funzionava e invece diventa possibile ora c'è bisogno comunque di andare avanti con l'analisi sono solo piccole note c'era ancora il tempo per una domanda brevissima in cui la risposta ti chiedo altrettanto così dopo magari proseguiamo in altre sedi con la discussione era appunto e abbiamo parlato prima di soluzione del rapporto salariale di il moltiplicarsi delle dinamiche di sfruttamento appunto del lavoro e questo ci porta a interrogarci a noi come movimenti su forse un limite che abbiamo avuto incolpevole viene da aggiungere sull'individuare qual è un terreno comune effettivamente comune che possa costituire una base per delle lotte e delle rivendicazioni che vadano a riguardare queste nuove forme del lavoro e non è un caso credo che l'ultima grande lotta avvertenza politica sul tema del lavoro e lotta che ha prodotto anche dei risultati molto concreti su questo tema sia stato le lotte nel settore della logistica ma perché forse si andavano a toccare si andavano a attaccare quello che forse semplificando un po' però continua ad essere un corpus collettivo di sfruttamento mentre nelle nuove forme anche del l'abbiamo visto prima il lavoro gratuito ma non solo nelle nuove miliade di forme di sfruttamento del lavoro questa cosa non c'è più cioè viene a mancare quello che è veramente un terreno comune da cui far ripartire una forma di lotta politica che tenga insieme le varie facce i vari aspetti come si fa? cioè come quali sono i punti da cui provare proprio a ricostruire invece questo terreno di conflittualità possibile? rapidissimo hai detto bene sulle questioni della logistica lì c'è ancora una comunità diciamo così oggettiva che subisce un certo tipo di sfruttamento che accomuna i lavoratori di questo settore e che quindi rende in qualche modo quasi automatico il passaggio non automatico il passaggio alla solidarietà ma automatico al passaggio alla sentire comune chiaramente dentro il lavoro gratuito dentro le questioni di sfruttamento della natura è molto più difficile fare questo passaggio perché quel terreno va costruito però io credo che qui si debba veramente lavorare sulla convergenza delle lotte e credo che la questione ecologica proprio per la sua generalità in qualche modo abbia la potenzialità di essere questo elemento che accomuna come? non lo so di preciso solo ricordare solo ricordare il fatto che diciamo a fianco delle lotte sulla logistica molto importanti che continuano che non sono per nulla sedate che sono un orizzonte importante su cui fare investimento politico contemporaneamente in molte parti del mondo elementi di conflittualità e di lotta sono emerse non a partire da esperienze di sfruttamento sul lavoro quindi diciamo prevalentemente interne a logiche sussuntorie ma ad esempio in Brasile a partire dal modo in cui era possibile attraversare una città quindi diciamo il modo in cui si fruiva della città è stato lo scatenante delle proteste avvenute qualche anno fa in Brasile in Turchia la distruzione di un parco pubblico nel centro della città questo dimostra ancora una volta come gli elementi interni le fratture interne del diagramma capitalistico si danno su linee e strati differenti ed è molto importante tentare di connettere le une con le altre per come dire far girare e far crollare il diagramma stesso Sì e proprio su questo passaggio qua ora purtroppo diciamo abbiamo il tempo risicato perché ci sono diciamo delle sovrapposizioni nella vita del festival però è stato sicuramente un dibattito stimolante anche perché la discussione almeno per come ce l'eravamo pensata voleva proprio andare verso la direzione che stavate dando voi in questo momento cioè il fatto di dire oltre a fare pratiche di riappropriazione del plus valore espropriato che è stato quello che ci ha caratterizzato appunto nel ciclo di lotte 2008-2010 quindi la contrastazione e l'opposizione alle politiche di privatizzazione dei servizi dell'università del welfare eccetera è proprio come intervenire invece nel terreno del profitto quel profitto che però non si dà solo durante l'orario lavorativo come abbiamo visto ma si dà proprio grazie all'autoimpresa di sé a quella demoltiplicazione dell'uomo impresa come l'ha chiamata Foucault nel suo corso al Collège de France e la nascita della biopolitica che in un qualche modo registra tutta quella serie di attitudini di posture di stili di vita di pratiche di soggettivazione quindi proprio di creazione di forme di vita di antropologia di come lo stesso soggetto si percepisce che in un qualche modo sono funzionali appunto ad essere forza valore senza per forza creare lavoro un esempio che ci veniva in mente era proprio la Nuit de Boux in Francia perché effettivamente durante l'approvazione della Lua Travail si è dato un movimento che ha occupato la piazza e che ha agito proprio in contrasto nei confronti di quel legame sociale individualizzante iper egoico come viene descritto da Federico nel suo saggio e quel legame sociale che tende a frammentare che tende a vedere l'altro come un competitore creando invece forme del comune creando cooperazione non in competizione potremmo dire e quindi andando a intervenire paradossalmente su quegli stessi stili di vita che garantiscono l'estrazione di plus valore e di conseguenza quegli stessi stili di vita che in un certo modo reiterano l'organizzazione neoliberale anche al di fuori dei luoghi di lavoro che siano questi diciamo una fabbrica oppure un ufficio o un'azienda di marketing un'università eccetera eccetera quindi ecco diciamo tutto tutto questo bagaglio che ci avete dato tramite la lettura del libro e il confronto diretto con voi stasera penso che ce lo portiamo diciamo a casa perché sicuramente se uno dei primi compiti di un testo è quello di cercare di costruire nuovi concetti e di scatenare anche una sorta di shock performativo nel lettore dal mio punto di vista il vostro libro ci è riuscito e mi ha fatto interrogare rispetto a tanti strumenti che abbiamo utilizzato in questi anni quindi speriamo che il confronto possa continuare in futuro in generale che ci possano essere altre occasioni così come nuove pubblicazioni semmai ci saranno da parte vostra e quindi io ringrazio diciamo in chiusura del dibattito Teresa ovviamente come core ed attrice di Global Project Emanuele Leonardi prima ho messo diciamo il lavoro per appunto che è ricercatore all'università di Coimbra Federico Chichi che invece è professore associato all'università di Bologna e ringrazio a voi per l'attenzione e appunto speriamo che ci siano altre occasioni per fare in maniera tale che ci sia sempre meno sfruttamento e sempre invece più possibilità di essere veramente liberi e di poterci riprendere un po' di quella ricchezza che ci viene sottratta ogni giorno grazie mille grazie mille